E' un menù universale per aprirsi alle diversità culturali e religiose dei popoli diversi. La regione diventa un luogo di ospitalità attraverso un progetto presentato oggi a Castel del Giudice. Ma andiamo a vedere. Siamo a Castel del Giudice, Sala Gommegni, Borgo Dufi. Le iniziative belle partono molto spesso da questo comune. Questa volta c'è un convegno molto interessante. A tavolo con le religioni nell'ambito del progetto interculturale Molise. Sindaco, ma di cosa si tratta? Ma si tratta di un progetto che è cominciato due anni fa con la regione, con le quattro diocesi molisane e con i triano associazioni che ha come obiettivo il costante dialogo tra le tre regioni monotristiche più importanti che sono cristiani, l'ebraismo e i musulmani. E' un percorso che ha diversi obiettivi. Il primo obiettivo è quello di diventare, diciamo, la regione Molise un laboratorio a cielo aperto che sia il luogo della contaminazione del dialogo costante interreligioso e in particolare a giornata di oggi a tavola, a tavola con le religioni. Oggi è il tema, cioè verificare la possibilità di trovare un menu che sia il più possibile universale, il più possibile accessibile è, perché no, trasformare i nostri strutturi di ospitalità, i nostri ristoranti nelle condizioni di poter attrarre nuovi turisti legati alla religione e al modo diverso di mangiare. C'è molto da fare ancora? C'è tanto da fare, sono due anni di lavoro, più culturale che altro, però oggi a me piace dire che siamo passati nella fase operativa. Cominciamo a parlare di cose, di progetti concreti che possono essere elementi attrattivi e possono essere elementi distintivi per il nostro territorio e per le strutture del nostro territorio. Questo certamente è molto bello, però se andiamo un pochino indietro le condizioni di questa gente che viene da fuori, anche nel nostro territorio, lasciano molto, molto, molto a desiderare nella maggior parte dei casi. Però anche se noi dobbiamo guardare al mondo, diceva prima la relatrice che nel mondo ci sono un terzo della popolazione musulmana, una delle destinazioni più desiderate dei musulmani nel mondo è l'Italia e l'Italia non è capace di attrarre coloro che professano questa religiosa per quanto riguarda i limiti alimentari. Ecco, c'è molto da fare rispetto alla capacità di attrarre e di organizzarsi. Grazie.